Ampère, tratto da I protetti della gran signora di Paolo Fantin. Il celebre scrittore Federico Ozanam, giovane 19enne mandato dai parenti a Parigi per farvi gli studi universitari, ebbe la fortuna di conoscere il grande scienziato cristiano Andrea Ampère. Un giorno, racconta lo stesso Ozanam, pieno di tristezza, di ansia e di abbattimento, entrai nella chiesa di Santo Stefano del Monte, per alleggerire il mio cuore. La chiesa era quasi deserta e silenziosa, in un angolo, solo un uomo immobile, sembrava immerso profondamente nella preghiera. Lo scorgo, ma accosto e riconosco Ampère, umiliato, davanti alla divina presenza. Dopo qualche istante di contemplazione, mi ritirai molto commosso e più unito a Dio che prima. Lo scienziato di fama mondiale andava a ritemperare le forze dello spirito nella preghiera. Il giovane studente apprendeva in quel luminoso esempio il modo come agguerrirsi contro gli assalti delle passioni. E come pregava lo scienziato? Egli, assorto in Dio, stringeva tra le mani un caro segno visibile della sua fervida preghiera, il rosario. Oh, quanto è bello! Insieme grave di significato questo segno di fervorosa pietà, creduto già dai cosiddetti spiriti forti, devozione da donnicciole in mano di quel grande fisico, il cui nome anch'esso segno d'omaggio per la scienza di gratitudine per i popoli, è per sempre legato a quella corrente elettrica che illumina, riscalda e vivifica. Ed a questo rosario di Ampère, a questa visione in attesa di fede si deve se l'Ozanam tornò alla fede, quell'Ozanam cioè che poi avrebbe illustrato la scienza, l'apologetica e soprattutto la carità cristiana, fondando in tutto il mondo il prodigio vivente delle conferenze di San Vincenzo de Paoli. Quel rosario di Ampère, diceva Ozanam, mi ha commosso e convinto più che mille prediche.